Ciao fragoline e ciao fragolini! Allora, nuovo video. Sono riuscita finalmente a prendere i grattevinci. Allora, dato che ne ho presi tre, ho speso 10 euro. Speriamo che almeno uno di questi tre biglietti sono vincenti. Però ho pensato, in questo canale vedete questo grattevinci che è la star, quella da 5 euro, dove io gratto adesso in questo video e vediamo se è vincento o perdente. Invece nell'altro canale che vi metto qua, che è sempre la fragolina real official, grattiamo questi due grattevinci che ovviamente è sempre 5 euro. Una da 3, che è 15 per, e l'altro è fai scopo, nuovo 2, che è quello che avevo provato e che non mi piaceva alla fine. C'era solo questo, ho preso questo. E dato che ho pensato di fare così, perché così almeno vedevo i risultati, l'ultima volta che ho pubblicato un grattevinci, anzi due grattevinci, il risultato delle visualizzazioni delle persone che hanno visto il video era proprio poco poco poco, anche dopo un giorno. E non so perché. Di solito più di mille passapersone le guardano questo video. Per cui voglio valutare, se in questo canale risulta più visualizzato, allora continuo. Se invece nell'altro canale risulta ancora molto più visualizzato, continuo sull'altro. Credo che sia stata chiara. Comunque, detto questo, proviamo a vedere appunto se è vincento o è perdente. Io vi lascio al video, buona visione, ci vediamo dopo. Allora, in teoria dovrebbe... Credo che si vede la luce, si vede anche quello che è gratto. Perché sono vicino alla finestra e c'è un po' di luce. Per cui andiamo a vedere i numeri vincenti, che sono i nostri. Spero che... Ok. Allora, vediamo i numeri, i nostri numeri. Il primo è il 21, poi c'è il 39, il 33, il 12 e il 19. Il bonus lo vediamo, il bonus lo vediamo per ultimo. Intanto vediamo se riusciamo a trovare uno di questi. Allora, 17, che non ce l'abbiamo. Come avete visto, non ho grattato sotto perché io non so neanche se è vincente o perdente questo gratte vinci. Io spero veramente che è vincente perché sennò ho sprecato soldi per niente. 44 non c'è, che poi non è soldi per niente perché giustamente è anche divertimento. 11, ma già abbiamo il 12. Dai, almeno un numero. 40 non c'è. 31 c'è il 33. 26 non ce l'abbiamo. 28 neanche. 38, cavolo c'è il 39. Spero di non dire le parolacce perché non si può. 46 non c'è. Che sfiga, ma proprio. 13 c'è il 12, ma esci il 12, no? 24 nada. E per finire il 45 che si fa andare a puntini, puntini. Non si dice le parolacce, come sempre, ma quando perdo sempre un gratte vinci non è tanto bello, bello. Vediamo il bonus che è 34. 34 io non lo vedo. No, non c'è il 34. 34 qui non credo che abbiamo diamante, diamante, cioc, la bombina, la sedia, si vede, sì, intanto io controllo e la cinepresa. Per cui questo biglietto è perdente. Bene, volevo iniziare bene a fare un altro gratte vinci, almeno vincere qualcosina, invece no. Sperando che almeno quei due biglietti sono vincenti, però ovviamente voi lo scoprirete nell'altro canale. Per cui se non potranno e vi siete iscritti, iscrivetevi all'altro canale che vi lascio sempre qua. Bene. Amen. Allora, niente, ho provato a grattare anche, a vedere se sono alti i prezzi, non sono neanche tanto alti perché c'è anche un 25, un 10. Però non vuol dire niente perché qui dove abito io, c'è proprio il proprio como, in poche parole una signora ha preso due gratte vinci, una da 5 e una da 3. ha vinto un milione di euro. Cioè, io sono rimasta proprio di merda, ma proprio di merda, perché, cioè, sono io forse, diciamo, sfegata. Che poi, vabbè, qui è anche per ridere e scherzare, ovviamente. Ci vuole culo, non sempre si vince, poi dipende anche dove li prendi e te vinci. Ogni tanto, ovviamente, è una bella cifra, è esagerata la vinci anche. Perché nelle mie parti, due o tre persone comunque hanno vinto una bella cifra. È già, è già buona. Per cui, questo è. Detto questo, appunto, che il biglietto è perdente, ve lo faccio vedere. Non è che si vede tanto anche con la luce. Comunque, questo è perdente. Pensavo meglio, per quello che io non voglio prendere i gratte vinci da 5. Perché o sono sfigata, come ho detto, sono sfigata di più. Forse, con i gratte vinci, con cose che puoi vincere. Chi in amore, quello è sicuro, al 100%. Vabbè, chi se ne frega. L'importante è la salute, poi il resto viene dopo. E mi raccomando, se volete giocare a questi gratte vinci, non deve essere un'ossessione. Perché io lo faccio per divertimento. E come vedete nel mio canale, una volta al mese io spendo un massimo 10 euro, ma neanche perché questa, cioè, per chi mi segue veramente sa che oltre i 5 euro, 3 euro, massimo, massimo, io li spendo ma non ho oltre i 10 euro. Ho fatto forse una volta 20 euro e anche lì non ho vinto niente. Per cui, cioè, per chi mi segue veramente e invece per le persone che criticano per niente, come sempre in questi video sotto, non capisce la gente o tantomeno se non segui la persona e non sai la sua vita o quello che fa. E' inutile che, ovviamente, parli, cioè, si parla per niente. Detto questo, prima che parlo troppo e vi dilungo come sempre in tutti i video, vi ricordo di andare sull'altro mio canale, che vi lascio sempre qui, così a meno vedete i gratte vinci che sono questi. E scoprirete nell'altro canale se ho vinto o non ho vinto. Io spero di sì, non lo so perché, come avete visto, non ho grattato sotto, per cui anche per me sarà una sorpresa. Speriamo che almeno 2-3 euro vi vinco, non dico tanto. Per cui, andate a seguirmi, a iscrivervi sul secondo canale. Ogni tanto anche li metto qualche gratteminci, così, o altri video diversi. Niente, noi ci vediamo al prossimo video e questa volta al prossimo mese, che sarà a luglio, perché credo che già 10 euro il mese di giugno è già anche fin troppo. Poi se vinco ancora ancora, ma se, appunto, se perdo è meglio lasciar perdere. E niente, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!